Buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai colleghi delle territoriali del Sud Italia, quindi ai colleghi che vengono dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia e anche dalla Campania. Un saluto al Commissario dell'EPT Angela Pace. Oggi noi ci troviamo qui a presentare questo nuovo prodotto, la Rete Destinazione Sud. È un progetto nato per chi già ci ha seguito anche l'altro anno da un seminario che abbiamo tenuto qui l'altro anno quasi nelle stesse date, con la presenza del professore Iarc, in cui gli imprenditori del Sud Italia che erano presenti hanno ritenuto opportuno dar vita ad una forma di collaborazione più strutturata e continuativa tra le imprese del Sud. Ed è nata quindi Rete Destinazione Sud. Però consentitemi, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la tenacia, la passione, la testardaggine, il dispendio fisico ed anche economico, consentitemi, del Dottore Michelangelo Lurgi. La giornata comincerà con la presentazione del Dottore Cipollini, che è un esperto di innovazione territoriale che introdurrà il concetto di Rete. Ci sarà poi la presentazione da parte di Michelangelo Lurgi e ci saranno poi degli interventi con delle tematiche ben precise da parte dei colleghi delle territoriali del Sud Italia. Consentitemi di chiudere con degli auguri. L'augurio è che questo progetto possa essere il volano per il riscatto del turismo del nostro mezzogiorno. L'augurio è che possa dare opportunità di lavoro ai nostri ragazzi. Ma consentitemi anche di dare l'augurio alla rete nella persona di Michelangelo, a coloro, alle imprese che partecipano alla rete oggi e che parteciperanno domani molto più numerose, con l'augurio di fare tanto business. Applausi